Adesso proviamo a parlare insieme della rivoluzione industriale. Seguite. La rivoluzione industriale, come tutte le rivoluzioni, è un cambiamento radicale e irreversibile. Per rivoluzione si intende un cambiamento radicale e irreversibile. E direi improvviso. Non è lento, è tutto insieme. Questa è la rivoluzione industriale, cioè del sistema produttivo. Con l'espressione rivoluzione industriale, in particolare, si fa riferimento al progresso nella tecnica e nella tecnologia che cambiò radicalmente il modo di produzione e i modi di produzione. Si passò da un sistema di manufatture a un sistema di fabbriche. Si parla di privato inglese perché tutto ciò avvenne principalmente in Inghilterra. Perché? Dopo la gloriosa rivoluzione, il privato della classe borghese era senza dubbio. Il dominio commerciale dell'Inghilterra era incontrastato. Oltretutto, l'agricoltura era progredita rispetto al resto d'Europa e soprattutto era diretta al commercio, alla produzione di materie prime adatte a essere trasformate e commerciale. Seguendo i dettagli della più rigida concezione mercantilistica. L'Inghilterra ebbe un grande sviluppo dell'agricoltura grazie al commercio. Il bisogno di avere prodotti da commerciare spinse a sviluppare i modi di produrli. Modi sempre più renditizi, sempre più veloci e sempre meno costosi. Quindi, non era più interesse del proprietario affidare parte del proprio terreno ad altri, ma i terreni dovevano essere sfruttati intensivamente nel miglior modo possibile. Non solo era interesse del proprietario ingrandire sempre di più la propria proprietà terriera per mettere in opera nuove ricolture, per avere nuovi prodotti da commerciare. Le innovazioni principali furono la rotazione quadriennale, che sostituì quella triennale e permetteva di dividere una proprietà in quattro parti. Una coltivata a cereali, una a otaggi invernali, una a otaggi a primaverili e un'altra, ultima, a foraggio o a coltivazioni atte a arricchire il terreno. In questa maniera, il terreno era continuamente produttivo, al massimo livello. Questo portò, per esempio, a un miglioramento dell'abitudine alimentare, a avere maggiore disponibilità di cibo e una grande crescita demografica. Non dimentichiamo, però, anche le nuove coltivazioni e la pratica delle enclosures, cioè la pratica di chiudere i terreni fino a quel momento considerati comuni i terreni ai limiti delle grandi proprietà terriere erano considerati comuni, cioè venivano utilizzati dagli abitanti dei villaggi. I proprietari li chiusero facendo in modo che aumentassero, per esempio, i terreni disponibili per il foraggio, per il pascolo in particolare, in Inghilterra, per le pecore, coltivazione della lana, scusate, è produzione della lana, e commercio di panni di lana. Coltivazione della lana è una meraviglia, una chicca che vi regalo volentieri. La medicina migliorò, migliorò perché si iniziò a studiare le malattie, per esempio, si risolse, una, si devellò una malattia assai diffusa, che era il vaiolo. Ivo Jenner introdusse il vaccino contro il vaiolo, e questo permise di sviluppare nelle persone gli anticorpi necessari a non ammalarsi di questa pericolossissima malattia. Ricordatevi che buona metà della popolazione americana nel Cinquecento venne distrutta, nel Sud America venne distrutta proprio dal vaiolo. grazie a questo segnale qui, Edward Jenner. Vedevo adesso invece proprio alle invenzioni. Nel 1709 si crea, viene sostituito il carbon fossile con il coke, che è un tipo di carbone che raggiungeva delle temperature molto più alte. Nel 1733 viene inventata la spoletta volante, che applicata al telaio permetteva di lavorare più velocemente e con diversi fili. Nel 1769 James Watt inventò la prima macchina a vapore, inventò il primo motore che permetteva di creare movimento senza essere dipendente dalla forza muscolare o dalla forza animale. Nel 1789, Cork White inventa il primo telaio meccanico, una macchina a vapore azionava molti telai e quindi il lavoro umano fu molto meno necessario ma aumentò la produzione a un costo molto inferiore. Nel 1803 venne costruire la prima carrozza stradale a vapore. Nel 1815 e 25 la prima locomotiva a vapore di Stephens. Nel 1825 si formano le prime associazioni dei lavoratori salariati. Nel 1830 viene inaugurata la prima ferrovia. Nasce la fabbrica, un nuovo luogo di lavoro completamente diverso da quelli che esistevano qui. Prima l'uomo provvedeva al proprio sostentamento con il lavoro sulla terra o con il lavoro nella sua bottega o vendendo i prodotti della terra o vendendo i suoi lavori artigianali. Adesso viene pagato per il lavoro che svolge. E lo svolge in una fabbrica dove non c'è un mastro artigiano che insegna a lavorare ma ci sono tanti operai generici e ognuno che svolge una singola mansione per cui non è necessario avere una grande conoscenza. La macchina risolve il problema. Quindi si assiste alla divisione della nuova. Ogni gruppo di operai svolge una singola operazione terminata la quale l'oggetto viene spostato a un'altra banda cosicché nessun operaio riesce a gestire l'intero processo di produzione e può essere sostituito a qualsiasi momento. Viene creata a questo punto la cosiddetta economia politica. Adam Smith fonda la nuova disciplina dell'economia politica. Le condizioni di lavoro sono tutto all'infuori che semplici e piacevoli. Le orarie di lavoro sono enormi le condizioni di lavoro sono prive di ogni tipo di comodità e soprattutto di sicurezza. I lavoratori vengono sfruttati fino a oltre ogni limite e si crea una nuova forma di classe sociale il proletariato urbano cioè persone che vivono in città non hanno proprietà terriere l'unica anche nemmeno un piccolo pezzo di terreno l'unica cosa che possiedono è la loro prole da mandare al lavoro nelle fabbriche per guadagnare soldi. Il problema di vivere nelle città è che ogni cosa che ti serve lo devi pagare con quegli stessi soldi che tu guadagni. Non hai la possibilità di produrre da te alcune cose in campagna. Quindi in questa maniera il proletariato sotto pagato è sempre più sfruttato sempre più povero. Si iniziano in questi periodi le lotte per i diritti dei lavoratori. Si cerca di garantire dei diritti a questi operai che non ne avevano. Nascono le prime associazioni dei lavoratori. Nel 1825 il Parlamento inglese riconosce il diritto degli operai a creare proprie associazioni. Nel 31 in Inghilterra si vieta l'assunzione dei bambini di meno 9 anni e il lavoro notturno per i minori di 18. Nel 1844 la giornata lavorativa viene ridotta a 12 ore per gli uomini a 6,5 per donne e bambini. Nel 1847 la giornata lavorativa viene ridotta a 10 ore per gli uomini. Questo è il momento di grandi proteste operali e di rivolte anche esagerate come il luddismo dal nome di lud che distrusse un telaio perché lo considerava la causa della perdita del lavoro da parte e del sfruttamento degli operai da parte dei proprietari. Si crea quindi una nuova piramide sociale alla base abbiamo coloro che we work for all lavoriamo per tutti poi ci sono quelli che we eat for you noi mangiamo al posto tuo poi ci sono le parti che la parte che we shoot at you noi ti spariamo se ti rivolti we fool you noi ti come dire ti frodiamo e poi we rule you noi ti governiamo questa è la piramide del capitalismo che preme sul proletariato urbano si creano quindi questi nuovi il capitalismo moderno è basato sul capitale cioè la somma di denaro che serve per essere investita e avere nuovo capitale il capitalista non è il capitalista che possiede una fabbrica di spilli non è uno specialista nella produzione di spilli è semplicemente una persona che ha dei soldi li investe e gli interessa che gli fruttino non conosce il lavoro questo è il capitalismo moderno si crea poi il primo socialismo per socialismo si intende un nuovo modello economico in cui le fabbriche non devono essere luoghi di sfruttamento ma i luoghi posseduti dagli stessi lavoratori per produrre ricchezza cioè i lavoratori devono possedere gli strumenti di lavoro si crea poi il liberalismo economico che sostiene che la proprietà privata da libertà dei venditori di investire come meglio credono i loro capitali senza nessun tipo di obbligo né di limite commercio libero spero di essere stato chiaro eventuali domande nei commenti in un tempo è praticamente scaduto a dirci